Buon pomeriggio, anzi buon pranzo perché so che siete alle prese col di Gennaro in questo momento. Oggi l'ospite è Bernardino Ceccarelli, vicepresidente di Confapi. Benvenuto presidente. Grazie a voi per l'invito. E' uno dei maggiori protagonisti anche dell'autotrasporto qui in Friuli-Venza Giulia. Con lui facciamo una chiacchierata un po' a 360 gradi sulle infrastrutture, sull'edilizia. Ma partiamo subito, presidente, sul fatto che l'Europa fra qualche giorno forse cambierà o forse no. Cosa ne pensa? La situazione come la vede? Ma la vede un po' ingarbugliata perché ci sono diversi partiti, diverse nazioni che hanno idee un po' diverse. Però come giusto diceva in questi giorni il nostro Presidente della Repubblica, l'Europa, piaccia o non piaccia, ci ha garantito pace dal 1945 in poi. E quindi questo è anche stabilità e anche un sviluppo economico. Lasciamo la parentesi dal 2008 in poi che ha avuto nove anni di crisi, ha subito nove anni di crisi, però questo è stato un fatto un po' mondiale. Non è che solo in Europa, quindi non è che si può dare la colpa all'Europa. Ecco, certamente quello che bisogna fare, bisogna snellire a livello burocratico, bisogna prendere iniziative e decisioni molto più veloci, finanziare quello che bisogna finanziare, che crei sviluppo. Noi riteniamo che se si mette un euro bisogna che porti almeno un euro a 0,1, non a 0,99. Quindi questo è quello che noi imprenditori ci aspichiamo. Quindi tutto quello che deve venire investito deve dare reddito e deve essere di utilità generale, non solo a pochi. Senta, si è parlato tanto di infrastrutture, ma le stazioni delle infrastrutture e della viabilità a nord-est è la nostra regione, come la vede? Perché i lavori ci sono, probabilmente qualche miglioria ci sarà, ma nel frattempo... Allora, diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna di avere dei presidenti, tanti anni fa, delle province lungimiranti, perché la viabilità interna di questa regione è una delle migliori in assoluto delle altre con termini o regioni con termini o anche regioni centrali, toscane o emiliane, eccetera. Questo va detto. Quello che a noi manca, manca l'autostrada, perché attualmente quei lavori, questi lavori... E la terza corsia, insomma. La terza corsia doveva essere terminati almeno dieci anni fa, prima o a metà della crisi, ecco. Quindi diciamo che chi ha governato questa regione in quegli anni là non ha previsto l'esigenza della terza corsia in tempi non... prima che l'economia riprendesse. Però, detto questo, diciamo che non siamo male. Invece, volevo fare un appunto, perché FWG Strade attualmente non vedo grandi interventi in regione. Pochissime rotonde e mi pare che sono un po'... Un'attività un po' compressa. Compressa, sì, che sono fermi lì, che non sanno cosa fare. Io posso ricordare di aver invitato come trasportatori a Lapi chiedendo che venisse riconvertita la ferrata, no? Da Basiliano a Portogluaro. Qualche rotonda è stata fatta. In quella volta avevamo invitato l'assessore Mattiussi, che non è potuto venire, mi è venuto il dirigente, l'ingegner Fabbro, al quale avevamo chiesto di terminare le quattro rotonde che mancano negli incroci per dare più sicurezza e anche cercare di allargarla, no? Meno male che questa arteria oggi funziona in alternativa ai lavori della terza corsia. Adesso mi pare che indietro arriva anche la Tassenziale Sud, l'ha tanto... Ma spero, adesso si è dimesso anche il sindaco di Pozzuolo, non so poi come va a finirla. Adesso ha questa Tassenziale Sud che tutti aspettano. È una telenovela. È una telenovela, sì. Sì, non capisco perché una regione a statuto speciale, che se non ha l'eccellenza e la velocità degli interventi, che cosa c'entra la statuto speciale? Io vorrei capire, no? Perché dobbiamo aspettare. Allora, il casello di La Disana, 27 anni. Il sottopasso di Pasiano di Prato, 25 anni. Eh no, anche quasi 100, quasi 80 anni buoni. Bene, bene. Allora ancora non sono ben informato. Quindi se abbiamo questi tempi, io veramente, sì, non so, ho qualche dubbio. Comunque insomma i lavori stanno andando avanti. Sì, stanno andando avanti. Ecco, volevo dire, noi siamo la nazione dei comitati, no? Sì. E quindi questo un po' ci blocca anche, quindi è una forma mentis dei nostri politici e anche dei cittadini, in sostanza, no? Ma io dico... E questo ci blocca? Ma blocca sì. Io dico che uno non ha visibilità, nessuno lo conosce, per mettersi in mostra a creare un comitato. Questo è il mio pensiero. Ma questo, però, bisognerebbe riflettere, no? Su queste cose. Perché se sono utili e sono di supporto, allora ben venga il comitato. Ma se il comitato è nato per frenare o per dire no, non mi pare che aiuti nessuno e non serva nessuno. Sì, dalle stazioni dell'autotrasporto, no? Quindi costi, personali anche, diciamo, lo straniero, concorrenza abbastanza, tra virgolette, spietata. Come la vede lei? Ma adesso, allora, l'autotrasporto è stata una grande selezione. Qui in Friuli, come in tutte le altre regioni d'Italia, sono state chiuse, purtroppo, il 50% delle aziende e di conseguenza il 50% degli addetti. Dobbiamo... Va detto che non esiste più un camion italiano che va in Europa, né all'est, né all'ovest. Noi stessi siamo costretti a utilizzare vettori dell'est perché altrimenti non saremo competitivi. Non espruteremo... Cioè non state dentro le costi, in sostanza. No, non faremo un trasporto in Europa e quindi per aiutare le aziende manifatturiere che ci affidano le loro merci dobbiamo avere delle tariffe competitive. Per poter fare questo dobbiamo utilizzare vettori dell'est. Questo è solo che là gli stati hanno investito l'ire di Dio perché la Polonia ha triplicato le flotte, così dico anche la stessa Slovenia, la Romania, la Bulgaria, la Cecchia, la Slovacchia, tutti hanno triplicato e raddoppiato le flotte. Noi stiamo mantenendo, ormai il trasporto italiano lavora nell'ambito nazionale perché anche le stesse spedizioni aerei utilizzano tutti i vettori dell'est. E' così da un altro problema che so che lei è molto preoccupato anche per la questione dell'edilizia che è stagnante, no? E per cui questo problema sta diventando un po' cronico, no? Sì, esatto. Allora io non ho, bisogna anche precisare, né immobiliari né appartamenti né imprese di lì. Io faccio trasporti e basta. Però vedendo in assolazione le crisi, le aziende che chiudono, quelle in difficoltà, eccetera, uno si deve preoccupare anche se non fa lo stesso mestiere. Anche perché dico, l'edilizia quando va in moto mette in moto tutto, no? Esatto, ecco. Quello che non si... E da tanti anni, ecco, da diversi assessori che stiamo predicando che bisogna anche la legge attuale, quella che dà i 10.000 euro ai 40.000 nell'incentivo per la ristrutturazione, non servono a niente, no? Non servono a niente. Perché prima di tutto non portano, non fanno sì che questi interventi siano antisismici, no? E quindi, e quindi cosa vogliamo? Speriamo che non succeda mai, ma se deve succedere mettiamo i soldi per poi tornare a metterli. Ma poi c'è una legge che comunque prescrive che le ristrutturazioni devono essere secondo la... Sì, ma con 40.000 euro non puoi, no? È un aiutino, insomma. È un aiutino che non credo che possa... Che non uccide, diciamo. Esatto, perché poi devi ristrutturare tutto, c'è bisogno di pianto elettrico, devi fare il capotto per risparmio energetico, devi rifare il tetto sempre per lo stesso problema. E allora, o a questi incentivi tu aggiungi una garanzia sul mutuo affinché il proprietario possa attingere con un fondo di rotazione che in regione c'è ma non si applica, io non capisco perché non si può andare avanti e copiare la legge 30 stata fatta dopo il terremoto, che è stata una legge straordinaria, adattarla ai tempi odierni. Ecco, perché un lavoro pubblico, allora, una fognatura, non mette in moto tutto il sistema economico. Il privato. Esatto, perché poi nella casa lavora il fabbro, il falegname, l'idraulico, l'elettricista che poi deve acquistare i prodotti per metterli. Ma senta, non dovrebbero anche le banche in qualche modo fare da volano, no? Perché qualche banca so che dà, anche perché i mutui adesso sono un tasso molto basso, quindi favorevoli, no? Esatto, come no? Però bisogna dare garanzie, bisogna vedere se queste persone proprietarie di immobili possono dare garanzie almeno. Sì, la banca non rischia, dice. Ma è giusto che non rischi, però la banca impresta i soldi, non è che li regala. Ha già avuto, per gli errori del passato, ci hanno messo, a tutte queste aziende che hanno dato i soldi, che poi non li hanno restituiti, ci hanno fatto concorrenza sleale, perché sapevano di non restituirli. E basta le sofferenze che hanno le banche, no? Non serve che lo dica io. Ma comunque per quanto riguarda l'edilizia in generale, lei auspera che ci sia un colpo di reni, insomma. Un colpo di reni che la Regione bisogna che rifaccia, riveda le leggi attuali e deve prendere lo spunto della legge 30. E' un suggerimento, però l'abbiamo detto in tutte le lingue. Ma speriamo a questo appello, magari, chissà. Speriamo, speriamo. Senta, lei è anche Presidente dell'Elberta Regionale, lei è stata sin da giovane, non solo una passione, ha un impegno molto importante, e anche Presidente della Volley, no? Sì, grazie. Siete ormai, mi pare, nell'Olimpo, per cui un tributo va dato a lei per questo impegno, no? Sì, grazie. Che continuerà, mi pare. Sì, continuerà finché il nostro Signore Gesù Cristo ci dà la salute, anche perché è una passione, un hobby che vogliamo portare avanti. Diciamo che questo viene fatto con l'aiuto di tante società, di tanti collaboratori. La Libertà Regionale è cresciuta parecchio, siamo a quasi 300 società iscritte, con quasi 30.000, 28.000, 30.000 attesserati. Stiamo facendo attività, abbiamo finito ieri la prima parte della Libertia di Agemona, abbiamo avuto un sacco di giovani. Da bel successo, no? Esatto, poi adesso i primi di giugno avremo l'atletica leggera, sempre a Agemona, e quindi andiamo avanti. Ecco, il nostro spirito è quello di portare il maggior numero di giovani a fare una pratica sportiva, perché lo sport insegna, no? Come scuola di vita, noi abbiamo ricevuto questa lezione dai nostri padri fondatori, che ringraziamo in eterno, perché ci hanno insegnato molto, e quindi noi cerchiamo di trasmetterlo a queste giovani. Ah, non è che i giovani sono il futuro del nostro paese e della nostra regione. Eh sì, perché bisogna avere gente che lavora, che ha passione, che va avanti. Bene, allora io ringrazio questa chiacchierata al vicepresidente Ceccarelli, naturalmente auguri per la libertà e per la sua attività imprenditoriale, no? Grazie a voi per il gentile invito, grazie. Bene, allora, tante grazie ancora Ceccarelli, grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima. Grazie a voi.